Sono stufo di vedere che l'Italia è l'unico paese che usa i propri militari per accogliere migliaia di clandestini invece che per fare i respincimenti come fanno tutte le altre nazioni che hanno lo stesso problema. La Lega sono io perché cancellare il reato di immigrazione clandestina vuol dire spalancare le porte a milioni di disperati e appendere un cartello sulle nostre coste con sopra scritto Avanti c'è posto.